Vediamoci qua, giovani amici di Fan Party, noi siamo qua per ricordarvi l'appuntamento di sabato 19 maggio 2012 noi vi aspettiamo in quella location chiamata Savanna & Cafe per la quarta gara karaoke ricordiamo che siamo in diretta televisiva sul canale 692 del Digitali Travest naturalmente dobbiamo ringraziare il sponsor che ci hanno aiutato e contribuito per questa magnifica realizzazione ringraziamo Dancing Parioli, locale di Sorriso di Michele Michele ringraziamo la ditta di Marco Satin, NCC, un autista per sempre e ringraziamo Adelaide Single, l'associazione culturale per trovare la tua anima gemella noi vi aspettiamo sabato 19 maggio a Conselve oppure direttamente in tv canale 692 Prima Free oppure www.videocalisma.com vi aspettiamo grazie a tutti